L'ultimo episodio Ma guarda là, qualcuno sta camminando È lei Celina, più veloce Non ce la faccio più a correre Anch'io, anch'io sono stanco Hai visto quello che ha fatto? Ha bruciato la nostra telecamera Cosa? Davvero? Ma è tutto registrato lì dentro? Non ci credo Avevamo anche un drone, papà È vero, c'è il drone e lì sopra c'è la registrazione Torniamo alla macchina Prima che arrivi Amber Ora però dobbiamo andare avanti Ecco la nostra auto Ma la portiera è aperta Non riesco a vedere Amber laggiù Andiamo in macchina Sopra che tutto sia a posto qui in auto Abbiamo il drone Angelina, riesci a vedere Amber? No Andiamo a casa, papà E vai, ho inviato il video Dobbiamo solo aspettare la ricompensa Pensa Pronto? Sì, sì, eravamo proprio noi Bene, e quando dobbiamo arrivare? Ah, va bene Sì, arriviamo Ma che dici, papà? Chi ti ha chiamato? È un'agenzia di notizie Ci hanno invitato a una trasmissione in diretta Wow, fico! Ci andremo subito, tesoro Buon pomeriggio Ecco le notizie di questa giornata Sono due ospiti interessanti Due blogger Si chiamano Angelina e Reimic Ciao, sono Angelina E io invece sono suo papà, Reimic Del canale Anglicosic La situazione è la seguente Una creatura chiamata Amber È stata notata nella nostra città Angelina e papà Reimic Sono gli unici che l'hanno incontrata E sono riusciti a filmarla Beh, sa, quel giorno non era affatto speciale Io e Angelina abbiamo deciso di fare un giro come al solito E di lanciare il nostro drone preferito, ovviamente Volevamo ricevere la ricompensa E così... Beh, abbiamo lanciato il drone L'abbiamo fatto volare un bel po' E ci siamo messi alla ricerca di Amber Ci sono volute davvero tantissime, tantissime ore, lo sa? Poi l'abbiamo notata Era ferma e fissava la nostra telecamera Che paura quando è corsa da noi Ha bruciato davvero tutto Ma lo spettacolo è stato mozzafiato Ovvero, Angelina? Sì Ora diamo un'occhiata allo schermo Qualcuno sta camminando È lei È lei È lei Ecco la guarda È proprio lei Non ci credo Guardala È proprio Amber Ottimo lavoro, ragazzi Siate davvero coraggiosi e avventurosi Quindi continuate così Vi auguriamo buona fortuna E speriamo che riusciate a catturare Amber Beh, grazie mille E grazie per averci invitato nel vostro canale Ve ne siamo davvero grati Grazie mille Per ora è tutto E non dimenticate di seguire Anglicodic Oh, papà, è stato bello Però alla fine ero un po' preoccupata Preoccupata per cosa, Angelina? Dai, dimmelo Non è stato emozionante È stata un'esperienza fantastica Pronto? Papà Rami che è Angelina State parlando con l'unità speciale chiamata Thunder Abbiamo saputo delle recenti vicende in cui siete stati coinvolti Vi suggeriamo di partecipare alla missione di protezione della città Vi abbiamo inviato le coordinate Ok Lo sviluppo del piano sarà presto inviato anche sul tuo cellulare Tutto qui La chiamata è terminata Allora, papà, ci andiamo? Sì, forza, andiamo Siamo di nuovo in quest'area, non ci credo Davvero, Amber vive qui? Sembra di sì Andiamo avanti Ma che diamine c'è là, Joe? Un secchio con l'acqua e una pistola a giocattolo Una pistola ad acqua? Beh, molto strano Siete pronti? La stiamo indirizzando verso di voi Aspettate, no, aiuto Hanno chiuso la chiamata Cos'hanno detto, papà? Amber ci sta raggiungendo Amber è già qui Angelina, sono pronta ad affrontarla Resta lì e aspetta Mi fanno sempre aspettare bene Si sta avvicinando Move velocemente Ragazzi, è pericoloso Quindi conviene andarmene Oh mio Dio, è quasi arrivata Accidenti Le ho sparato ma non le fa niente Che c'è che non va in questa pistola? Forza, prendi questo Oh no, papà sta andando a fuoco Allaccia le cinture, Angel Sto andando a fuoco, sto andando a fuoco Prendi questo, traditrice Oh, papà Sto arrivando, papà Oh no, il secchio Oh no, papà, mi segno d'acqua Oh, lì c'è una bottiglia d'acqua Papà, sto arrivando, arrivo Papà, sei vivo È strano, stavo andando a fuoco Ma non sono nemmeno bruciato Com'è possibile? È come se fossi congelato Dammi dell'acqua da bere, forza Grazie a Dio, fa tutto bene Sì, ma dov'è? Lei è proprio lì Oh, cavoli Ho bevuto tutta l'acqua Quella è la squadra di soccorso Angelina e papà Rainy, state fermi Aiuteremo, verseremo l'acqua Ah, versate l'acqua Corri subito in macchina, Angelina Angelina, papà Rainy Grazie per averci aiutato Mi raccomando, tornate a casa Dimenticati di accendere il telegiornale questa sera Ci vediamo presto Oggi siamo riusciti a catturare Amber con l'aiuto dei nostri amici del canale Anglicosic Grazie ad Angelina e a papà Rainy Amber, ora, è dietro le sbarre E non potrà mai più fuggire Papà, hai visto? Ci siamo noi Sì, è così emozionante Non ci credo Siamo sul TG, che bello I nostri eroi riceveranno la ricompensa per aver aiutato le forze speciali direttamente dal nostro presidente L'abbiamo presa È dietro le sbarre ora Papà, siamo eroi! Sì, dammi il 5 Ottimo lavoro Papà, dov'è la musica? Aspetta, Angelina C'è qualcosa Qualcosa che non va Angelina, smetti di giocare con la radio L'auto sta perdendo potenza C'è qualcosa che non va qui Bene Devo sollevare il cofano Tieni duro, Angelina Papà, che c'è che non va? Non lo so L'auto era piena di fumo Ma ora sembra essere a posto Provo a riavviare il motore Oh sì, ce l'ho fatta Angelina? Angelina? Angelina! Che sta succedendo? Angelina! Angelina? Perché Ellie ferma in piedi? Signorina, sono il papà Angelina! Già, quale papà? Scherzi? Non puoi andartene così Devi farmelo sapere Angelina, mi senti? Angelina, sto parlando con te Pronto? Angelina, mi senti? Sta più avvicinando Angelina? Che stai guardando? Oh cavolo Papà, quello è un piedone Cosa? Non esistono Angelina Angelina, andiamo Forza Andiamo in macchina Forza, corri Muoviti Angelina Forza Andiamo, papà Sta arrivando Ti prego Ti prego Parti Parti Forza Sì, papà Ce l'abbiamo fatta Sì No Cosa, papà? È troppo presto per festeggiare Angelina Non ci credo L'auto ha di nuovo perso potenza Cosa? Non di nuovo Devo fermarmi Il motore si sta suriscaldando Oh santo cielo Ok, starò allerta Dobbiamo essere veloci Oh mio Dio È qui Papà È qui È qui Che facciamo Papà Oh, è qui Lo devo combattere Forza, vieni qui Papà, è molto vicino Lo vedo, Angelina L'hai mancato, papà Lo vedo Non sembra arrabbiata Per favore, ti prego Aiutami Come posso aiutarti? La nostra nave è rotta Sono andata a fare una passeggiata E mi sono persa Ok, ma come possiamo aiutarti? Anche la mia auto è rotta Vedi? No, la tua macchina non è rotta Sono io che emetto il segnale Quindi puoi spegnere quel segnale In modo che la mia auto riparta Davvero? Sì, certo L'ho già fatto Va bene Allora, quando la mia auto sarà riparata Potremo aiutarti Sì È meglio se le persone non mi vedono Di solito le persone iniziano subito a inseguirmi e a prendermi Io vi ho seguito perché voi siete scappati da me Non siete come tutti gli altri E va bene Allora, puoi saltare nel bagagliaio Forza, andiamo Ti aiuteremo a trovare la tua casa Grazie Già E non preoccuparti Guiderò lentamente Sì Spero che la mia auto ora parta Sì 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 Scusa Qual è il tuo nome? Bambalina Bambalina Fa rima con Angelina Piacere di conoscerti Ok, bambalina Partiamo Se vedi qualcosa faccelo sapere, ok? Sì, certo Quindi che stiamo cercando? Beh, io... Non so La mia nave e i miei genitori Beh, bambalina Tutto a posto lì dietro? Sì, sto bene Grazie Fermatemi ragazzi Cosa? Che c'è che non va? Questo è il luogo in cui la mia nave si è schiantata Fantastico Andiamo, forza Aiuto Fatemi uscire Aiuto Fatemi uscire Oh, bambalina Scusa Mi sono completamente dimenticato Grazie Scusa Mi dispiace molto Wow Quello è un castello abbandonato Aspettate Riesco a sentire qualcuno Forza Prendiamolo È un mostro Oh mio Dio Devo nascondermi Forza veloce Andiamo laggiù Forza Ora sembra tranquillo Possiamo andare Andiamo Ragazze Ma non c'è via d'accesso Accesso? Non mi importa dell'accesso Dov'è la mia nave? Non doveva essere lì Da qualche parte Ci siamo schiantati lì Proprio accanto a quel castello Ma non ho più visto la mia nave Così la mia famiglia È partita senza di me Mi dispiace molto Non so Non so come aiutarti Abbracciami per favore Forza Dov'è sparita? Non lo so Bambilina? Papà, guarda Ci sono alcune scritte Grazie a voi Guardate in alto La nave! Iscrivetevi al canale Ragazzi Sììì!